Approfondiamo adesso il concetto di impedenza e andiamo a riprendere il circuito d'esempio visto prima. Nel circuito d'esempio abbiamo una resistenza R1 alla quale corrisponderà una impedenza ZR1 generica. L'R1 ricordiamoci che è un componente passivo di tipo lineare, condizione necessaria per i nostri circuiti in regime sinusoidale. La stessa cosa vale per gli induttori e per i condensatori come componenti passivi dei nostri circuiti. Questa componente è passiva quindi corrisponde alla sua impedenza ZR1 che è un fasore. Andiamo a vedere come è rappresentata. Sappiamo che è un numero complesso quindi che possiamo rappresentare in parte reale più parte immaginaria generica A più GB oppure modulo ZR1, chiamiamolo, e fase FI di ZR1. L'unità di misura dell'impedenza sappiamo essere Ohm. Per l'induttanza L1 avremo un'impedenza corrispondente che possiamo chiamare ZL1. Stessa cosa per il condensatore C1, un'impedenza ZC1 e così via per tutti i componenti passivi del nostro circuito. Ogni componente passivo avrà associato quindi la propria impedenza. Prendiamo l'impedenza del resistore e vediamo ancora delle relazioni. Questa vale genericamente per tutte le impedenze, quindi rappresentiamo la generica impedenza Z è stata espressa o come parte immaginaria o parte reale oppure come modulo e fase che indichiamo con Z il modulo e fase FI Z. Ovviamente unità di misura, Omega. Quindi questa è la rappresentazione della generica impedenza per qualunque componente di tipo passivo lineare. Quindi mettiamo in evidenza e annotiamo che la generica impedenza ha questo tipo di rappresentazione e in qualche modo generalizza il concetto di resistenza elettrica nel caso di circuiti in corrente continua. Avendo l'impedenza espressa come un numero complesso noi abbiamo, e dobbiamo ricordarci, le relazioni che esistono tra le rappresentazioni in forma algebrica e in forma polare. In forma algebrica, quindi parte reale e parte immaginaria, abbiamo i legami col modulo e fase dalle seguenti. La parte reale è modulo per il coseno della fase, la parte immaginaria è modulo per il seno della fase e la rappresentazione equivalente polare dove il modulo è dato dalla radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale e parte immaginaria e la fase è data dall'arco tangente, tangente alla meno 1, di parte immaginaria diviso parte reale. Quindi ribadiamo che queste trasformazioni che ci consentono di passare da una rappresentazione in forma gibrica a una rappresentazione in forma polare sono fondamentali e dobbiamo conoscerle e ricordarle. vediamo adesso il significato di impedenza come generalizzazione della legge di Ohm. L'impedenza non è altro che il legame matematico che esiste fra il fasore tensione e il fasore corrente in un bipolo di tipo passivo lineare come i nostri. Quindi il generico bipolo di impedenza Z stabilisce un legame tra il fasore della tensione e il fasore della corrente che lo attraversa tensione sui capi e corrente che lo attraversa ricordandoci nel rispetto della convenzione sui segni per i componenti passivi quindi con la corrente entrante dove indichiamo il segno più della tensione in queste condizioni il rapporto tra il fasore della tensione e il fasore della corrente rappresenta esattamente la nostra impedenza e esprime la legge di Ohm in forma generalizzata quindi valida anche per i circuiti in regime sinusoidale legge fondamentale che quindi mettiamo tra le cose importanti da ricordare da questa definizione generale possiamo adesso proseguire una considerazione che possiamo fare subito sull'impedenza è che è un numero complesso abbiamo visto ma a differenza dei numeri complessi che rappresentano i fasori di tensione e correnti l'impedenza non è rappresentativa di un'onda sinusoidale ma è semplicemente il legame matematico esistente fra il fasore della tensione e il fasore della corrente nel corrispondente bipolo passivo lineare quindi la Z è sì un numero complesso come i fasori di tensione e corrente però la differenza fondamentale è che non rappresenta una sinusoide vediamo quindi ulteriormente è ancora la definizione di impedenza per vedere i legami in modo più approfondito fra tensione e corrente quindi l'impedenza è definita come il rapporto delle tensioni in un rapporto sappiamo che il modo forse più semplice per calcolare la divisione è avere i fasori espressi in modulo e fase quindi tensione espressa modulo e fase e anche la corrente in questo caso il rapporto fra i due numeri complessi è dato dal rapporto dei moduli quindi V fratto I è la differenza delle fasi di numeratore FI con V e denominatore FI con I quindi questa è la rappresentazione polare della impedenza dove V fratto I come moduli di tensione e di corrente quindi i valori efficaci della tensione e della corrente rappresentano nel loro rapporto il modulo dell'impedenza e la differenza delle fasi fra la tensione e la corrente nel bipolo rappresenta quella che potremmo chiamare la fase dell'impedenza ma che è meglio è più spesso chiamata chiamato angolo caratteristico dell'impedenza perché ricordo come detto prima che Z non rappresenta un'onda sinusoidale quindi più che una fase si parla di angolo caratteristico generalizziamo quindi il rapporto dei valorificaci di tensione e corrente lo chiamiamo Z per indicare il modulo dell'impedenza e la differenza di fase fra tensione e corrente lo indichiamo con Φ come angolo caratteristico dell'impedenza il numero complesso quindi rappresentato come modulo e fase possiamo anche passare alla sua rappresentazione in parte reale e parte immaginaria ricordandoci ovviamente i legami e le trasformazioni dei numeri complessi quindi parte reale uguale a modulo per il coseno dell'angolo caratteristico parte immaginaria uguale a modulo per il seno dell'angolo caratteristico dell'impedenza viceversa le trasformazioni inverse sappiamo come farle modulo dell'impedenza è dato dalla radice quadrata della somma dei quadrati di parte reale e parte immaginaria e angolo caratteristico dell'impedenza come arco tangente di parte immaginaria diviso parte reale dell'impedenza cerchiamo adesso una rappresentazione sul piano di Gauss dell'impedenza quindi piano con gli assi reale e immaginario sappiamo ormai bene che è la rappresentazione algebrica parte reale sull'asse delle ascisse e parte immaginaria sull'asse delle ordinate definiscono un punto sul nostro piano di Gauss che rappresenta l'impedenza Z numero complesso quindi espresso nella sua forma algebrica parte reale più J parte immaginaria o nella sua forma polare con il vettore di modulo Z e angolo caratteristico FI Z vediamo adesso un esempio numerico per dare una maggiore concretezza a quello che stiamo dicendo supponiamo di avere un fasore di tensione di valore efficace 10 volt con fase 30 gradi sessagesimali supponiamo di avere una corrente I di valore efficace 2 A e fase 10 gradi sessagesimali e che questo fasore di tensione e fasore di corrente siano relativi alla tensione e alla corrente di un'impedenza Z quindi tensione ai capi dell'impedenza e corrente che attraversa l'impedenza con un verso che rispetta la convenzione sui segni quindi la nostra impedenza sarà rappresentata dal suo bipolo generico il fasore della tensione ai suoi capi identificato con una coppia di segni oltre che col nome V corrente rappresentata identificata dalla lettera I e dal verso di percorrenza della corrente in coerenza con la convenzione sui segni quindi corrente entrante nel più della tensione sappiamo che in queste condizioni è valida la legge di Ohm generalizzata dove quindi possiamo esprimere l'impedenza come rapporto dei due fasori in questo caso abbiamo i numeri complessi già espressi in modulo e fase tensione 10 volt fase 30 gradi corrente 2 ampere fase 10 gradi quindi il modulo dell'impedenza sarà dato dal rapporto dei moduli e la fase dalla differenza delle fasi di numeratore e denominatore quindi di tensione e di corrente modulo dell'impedenza quindi è pari a 5 Ohm con angolo caratteristico uguale a 20 gradi sessagesimali se vogliamo trasformare nella rappresentazione algebrica l'impedenza Z quindi nella forma a più gb basta semplicemente ricordarci le formule di trasformazione che ci consentono di calcolare la parte reale come modulo dell'impedenza per il coseno dell'angolo caratteristico e parte immaginaria come modulo dell'impedenza per il seno dell'angolo caratteristico phi z se adesso sostituiamo i valori intanto intanto il 5 è il modulo dell'impedenza 5 Ohm e 20 gradi sessagesimali è l'angolo caratteristico dell'impedenza quindi phi z quindi calcoliamo le trasformazioni parte reale sarà 5 coseno di 20 gradi e parte immaginaria sarà 5 per il seno di 20 gradi calcoliamolo facciamo una calcolatrice ricordiamoci fondamentale nell'usare la calcolatrice verificare che l'angolo sia espresso in radianti o in gradi nella forma più che nella forma adatta ai valori che noi abbiamo in questo caso dobbiamo vedere Deg nelle calcolatrici con Deg vengono indicati gli angoli sessagesimali con Rad gli angoli espressi in radianti con Grad quelli centesimali che non utilizziamo quindi facciamo il calcolo 5 per coseno di 20 gradi sessagesimali da 4 virgola 7 approssimato ricordatevi di approssimare rispettando le regole corrette delle approssimazioni quindi i numeri maggiori di 5 si approssimano alla cifra significativa superiore facciamo anche la parte immaginaria quindi 5 per seno di 20 gradi 1 virgola 71 che possiamo approssimare a 1 virgola 7 fermandoci alla prima cifra decimale quindi l'impedenza z la possiamo scrivere come parte reale 4 virgola 7 più parte immaginaria j 1 virgola 7 ohm equivalente ovviamente alla rappresentazione polare 5 angolo caratteristico 20 gradi adesso recuperiamo un po' di spazio e andiamo a rappresentare sul piano di graus l'impedenza z appena trovata disegniamo il piano di gauss in ascisse i numeri reali in ordinate i numeri immaginari le parti immaginarie stabiliamo una scala almeno approssimativa quindi contiamo 5 unità sull'asse delle ascisse individuiamo quello che potrebbe essere 4 virgola 7 di parte reale facciamo la stessa cosa sulle ordinate 2 e individuiamo quello che può essere 1,7 abbiamo quindi le due coordinate del punto rappresentativo dell'impedenza z 4,7 più j 1,7 ohm z in questo caso espresso in forma algebrica nella sua forma polare avremo il vettore di modulo 5 ohm e angolo caratteristico 20 gradi 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 8 10 10 10 12 12